torniamo sul tema della cilas se non è verificata se è omesso il controllo o viene fatto il controllo da parte del comune da parte della pubblica amministrazione e non è svolta in maniera corretta che rischi di responsabilità erariale o danno erariale ci sono io apro un ragionamento a bocca aperta che vorrei condividere e non comincerei a non escludere visto che la storia del super bonus mi pare che stia diventando qualcosa simile alla battaglia dell'arance che fanno a ivrea mi pare a quel carnevale e allora mi presento carlo pagliangelo urbanista seguitemi anche per altri consigli urbanistici edilizi questi sono i miei canali che vedete qua iscrivetevi anche a questo canale qua sotto il mio blog studiotecnico pagliai punto it e allora ho preparato anche un articolo sul mio blog che è il seguente che trovate nel link in descrizione cioè cosa succede nel momento in cui il comportamento omissivo o errato di colposo o doloso tenuto da un dipendente pubblico da un comune nel mancato controllo un errato controllo da parte della scilas provoca o non provoca un danno erariale in ambito super bonus quel discorso vale anche per i bonus minori e cioè ogni volta c'è una cessione di credito e una scontro fattura oppure domanda ancora più provocatoria ma c'è il rischio che un dipendente pubblico che è incaricato di controllare le scilas e anche le altre pratiche edilizie ovviamente che sia anche corresponsabile perché se avesse verificato prima e meglio quella pratica avrebbe impedito ad esempio l'emissione di questi crediti o ancora meglio se se avesse controllato da subito la pratica edilizia e avesse esercitato i propri poteri di controllo verifica sia sullo stato legittimo e soprattutto in tutti quei casi in cui sono stati erogati fondi sono stati erogati crediti verso immobili abusivi e per i quali il comune avrebbe dovuto impedire certi interventi sulla questione tra l'altro ho fatto un video recente anche un articolo sul mio blog vi ricordate la questione del tar lazio che ha confermato il corretto comportamento di un comune che ha dichiarato inefficace una scilas e quindi l'ha annullata come validità ecco a questo punto un ragionamento nel ragionamento che ho fatto ma allora in tutti i casi in cui verrà fuori che sono stati fatti interventi super bonus su immobili abusivi irregolari con difformità di vario tipo il comune avrebbe dovuto e potuto accoggersi di questa cosa avrebbe dovuto fermare con i suoi strumenti un'ordinanza di sospensione lavori un'ordinanza che di rimessa in pristino e avrebbe impedito di far ricevere fondi pubblici e agevolazioni cessione di credito e sconto in fattura a questi beneficiari francamente si aprono dei profili da questo punto di vista io faccio fatica a escluderli cioè pensiamo a un funzionario o un responsabile del comune che omettendo la verifica istruttoria della scilas per qualunque motivo permetta l'esecuzione di un intervento super bonus su un immobile che è affetto da varie irregolarità tipo il non aver esercitato un potere che è espressamente previsto nel decreto rilancio articolo 119 il comma 13 quater quante volte vi ho detto occhio che a me questa questo comma mi puzza di clausola capestro vi ricordate quando diceva si si fai la scilas senza verifica di stato legittimo vai 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 tranquillo comunque io comune io pubblica amministrazione mantengo i miei poteri di verifica valutazione della legittimità dell'immobile oggetto intervento cioè neanche si va a sindacare la validità dell'intervento singolo ma io vado a valutare la legittimità dell'immobile cioè io mi veri mi mantengo veramente i poteri di verifica dello stato legittimo dell'immobile che è semplificato tra virgolette nella scilas sì sì però sembra quasi contraddire tutta la semplificazione io ve l'ho sempre detto di starci attenta a quel trappolone tant'è che di nuovo la predetta sentenza tarlazio vi ripeto gli estremi 18 386 2023 ha confermato questo orientamento qualcosa di simile c'era già stato anche con un altro tar veneto c'è un'altra cosa che non fa sconti la giurisprudenza penale che dice occhio che effettuare interventi su immobile affetti da abusi edilizi equivale a reiterare l'illecito edilizio penalmente rilevante anche in pendenza di condono edilizio o sanatoria cioè non me ne frega nulla se stai aspettando il rilascio del condono tu l'immobile non lo tocchi perché sennò vai a riattivare l'illecito edilizio penalmente rilevante io questo scenario qui mi fa un po paura ve lo dico ecco perché condivido questo contenuto perché se questo criterio che abbiamo appena letto vale e vale certamente che vale anche per gli immobili su cui sono stati fatti interventi super bonus e con quindi stato legittimo semplificato ma secondo me c'è il rischio anche di un altro aspetto cioè si va ad attivare quella possibilità di far decadere i benefici fiscali super bonus perché perché c'è una non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui alla lettera sci comma 13 terra articolo 119 del rilancio ma perché questo direte voi perché nel momento in cui si dice si afferma con asseverazione che l'immobile è stato costruito con un titolo abilitativo io riporto gli estremi che ne so la licenza edilizia x dell'anno tale bene oppure che sia stato costruito ante 67 sì ma se non è veritiera come dice questo comma 13 terra c'è il rischio della decadenza infatti come è stato rilevato anche in questa sentenza tar qui e nel momento in cui c'è una discordanza o una carenza di conformità urbanistica edilizia è configurabile la falsa attestazione anche per questo comma e questo parte un profilo che sono me è ampiamente sottovalutato ma non è sfuggito a quella sentenza tar che ho detto prima ma quel che è peggio parte poi voglio vedere come si rientrà il consiglio di stato ma al netto di tutto ma non è che allora si rischia di aprire un versante forse sconosciuto di responsabilità anche erariale nei confronti dei dipendenti pubblici perché non hanno fatto adeguati controlli o proprio non l'hanno fatti cioè hanno fatto verifiche non corrette non approfondite e io appunto non vorrei che un dipendente pubblico se omette o sbaglia la verifica istruttoria ad una cilas non è che poi potrebbe essere chiamata a compartecipare almeno un solido al danno subito dalle casse statali su questa agevolazione non spettanti tipo l'immobile abusivo non dovevi fare la cilas perché è abusivo o ci sono irregolarità gravi ma te non l'hai controllata oppure l'hai controllata ma non hai fatto solo il classico controllo documentale no quello il sorteggio io do una occhiata veloce non vado a vedere per bene non vado a fare le verifiche di stato legittimo francamente è un profilo che non escluderei e vedremo poi se qualcuno solleverà il problema cioè non è che il fisco potrà contestare l'operato al tecnico comunale quindi pubblica amministrazione contro pubblica amministrazione chissà se arriveremo a questi scontri intestini ok non vorrei però il fisco facesse ragionamento di questo tipo se tu tecnico comunale tu avessi controllato correttamente la cilas ed è citato i poteri di controllo della pratica e irregolarità dell'immobile cioè stato legittimo quelli che abbiamo visto prima che sono espressamente previsti tra l'altro nel decreto rilancio allora avresti potuto impedire la cessione di crediti fiscali non spettanti perché perché sei primo che controlla questa cosa cioè nella catena di comando e di verifiche la presentazione della pratica cioè soprattutto la cilas vale ripeto anche per le pratiche ordinarie ma ha maggior ragione per la cilas ma non è che il mancato controllo allora soprattutto se sei il primo della lista se tu avessi verificato avresti impedito una reazione una catena ok ma sì c'è questo rischio insomma io non escluderei che la perdita dei benefici fiscali concesse soprattutto difficilmente poi recuperabili possa coinvolgere solidalmente anche dipendenti pubblici un esempio soprattutto il pensiero doveva alle truffe quelle vere e quelle pianificate tipo gli immobili inesistenti o interventi mai effettuati ora io lo premetto la materia danno erariale è complessa e ci mancherebbe altro figuratevi se voglio fare anche il tributarista anzi io lancio il sasso tengo la mano e voglio vedere cosa succede però effettivamente la responsabilità erariale potrebbe configurarsi su queste combinazioni anche perché diretta indiretta patrimoniale non patrimoniale origine dolosa o colpa grave per omissione azioni insomma vedete la materia e soprattutto qui se questo video viene seguito da esperti di questa materia mi piacerebbe leggere il loro commento magari ho cannato un pieno io e ci sta però non credo d'averla proprio sparata per aria perché perché un po come vale per noi tecnici professionisti intendo quelli iscritti all'albo liberi professionisti che siamo costretti a tenere un'adeguata condotta un adeguato standard di diligenza perché noi abbiamo la dirigenza qualificata analogamente la questione della responsabilità dell'ufficio tecnico comunale del dipendente pubblico anche per una questione di risarcimento a favore al cittadino insomma io ne terrei conto veramente lo so che la cilla e la cilla se rimangono comunque comunicazione edilizie sulle quali il comune ha pieni poteri di verifica ma di fronte alla montagna ai soldi pubblici quante sono 110 miliardi c'è in 40 non lo so io ho perso il conto tutti i giorni leggo un numero diverso ma a questo punto non è che il dipendente comunale avrebbe dovuto e soprattutto potuto verificare questo tipo di cosa ma ma io avverto fin d'ora dipendenti pubblici vediamo se questa profezia rimane confinata in un video così isolata oppure se avrà un seguito anche perché la stagione dei recuperi fiscali deve ancora aprirsi e la fame di recupero la fame delle casse vuote statali è tanta bene io a questo punto vi direi di mettere un bellissimo like di iscriversi al canale qua sotto e di potermi anche seguire dal mio blog o dai riferimenti social che vedete da questa parte e comunque vi aspetto al prossimo video alla prossima live premiere o ai contenuti che pubblico sui vari social un saluto a tutti da carlo pagliai e alla prossima ciao ciao ciao